Il giorno di Natale i nostri nonni, quando erano bambini, consegnavano ai genitori la loro letterina di Natale, scritta su della carta appositamente stampata e confezionata. Un riassunto dell'anno appena trascorso, nel quale si sottolineavano i buoni risultati raggiunti a casa o a scuola. Ora, alcune di queste letterine sono in mostra Savarna, a casa Segurini, all'interno della tradizionale mostra dedicata ai presepi. Ma io ho un lontano ricordo, perché l'età c'è, e quando eravamo bambini era abitudine, era consuetudine, era costumanza mettere la letterina di Natale sotto il piatto del babbo. L'obiettivo era quello di ricavare qualche soldino, ecco. Qui un amico, un certo Ubaldo Anzelmo di Marina di Ravenna, le ripropone nella loro originalità. A che cosa si scriveva, giusto per far capire come erano i tempi? Ma si faceva un piccolo discursus sull'ultima annata, se uno era stato buono, gli obiettivi raggiunti, scolasticamente parlando evidentemente. Ma tutto aveva l'obiettivo di incassare qualche cosa. La somma, più o meno, quali erano? Sì, sì, erano pochi soldini, non c'era l'euro. Oggigiorno le lettere funzionano ancora per i nonni soprattutto, oppure non si usano più? No, secondo me, cioè almeno ho sei nipoti e quindi io non mi sono più trovato le letterine. Credo che siano scadute negli anni 50-60, ecco, non oltre. Non so se in altre zone esiste ancora. Mentre invece qui, le lettere qui rappresentate, che lettere sono? Che immagini ci sono? Ma evidentemente sono immagini della natività, qualche presepino e la cosa simpatica è che ogni letterina aveva una sua caratteristica, che non era ripetitiva e poi a volte erano fatte a mano per non andare a spendere due lire nell'acquisto su un foglio di quaderno, quelle a righe prevalentemente, e con una goccia anche di profumo per dare più riuscita al tutto.